Ciao, io sono Giacomo di segretibancari.com e oggi voglio parlarti di dove e come investire nel 2019. Anzitutto permettimi di dirti che oggi abbiamo di fronte a noi tre incognite, tre dubbi che dovremmo cercare di risolvere. Primo è il rallentamento economico globale, perché l'economia mondiale sta rallentando, ci sono timori di una recessione e questo naturalmente incide sulla percezione del rischio da parte degli investitori. Poi abbiamo l'incertezza politica a livello italiano per l'impatto che il debito ha sull'Europa, a livello europeo con la Brexit e a livello mondiale con i dazi di Trump e le politiche protezioniste. Infine abbiamo i mercati che sono in crescita da dieci anni circa, sia mercati azionari sia mercati obbligazionari. Questo per dirti che lo scenario con cui dobbiamo confrontarci non è sicuramente dei più semplici. Tuttavia tra ottobre e dicembre del 2018 i mercati hanno corretto pesantemente, quindi qualcosa spunta dal cemento. I rapporti prezzo utili sono ritornati in linea con le medie storiche, e quindi se qualcuno temeva che i mercati azionari fossero sopravvalutati, oggi può star tranquillo che non è più così. Lo stesso anche i timori del rialzo dei tassi, del quantitative easing e compagnia bella si è riflesso già all'interno del mercato obbligazionario, per cui oggi, grazie allo sgonfiamento di prezzi, i bond sono più convenienti rispetto a qualche mese fa. Parliamo di mercato azionario, partendo dagli USA. Negli USA l'aspetto critico è che il dividend yield è comparabile e, diciamo così, simile al rendimento del decennale. E questo spaventa un po' gli investitori perché le persone preferiscono investire in un treasury sicuro, piuttosto che non sul mercato azionario se il rendimento da dividendo è lo stesso. Però abbiamo che il rapporto prezzo-utili si è raffreddato. Siamo passati da 21, che era il valore di novembre, a 18-19, che è il valore di fine gennaio 2019. Quindi sicuramente le valutazioni sono più contenute. Nonostante ci siano i timori di un rallentamento dell'economia americana, questo continua ad andare, e quindi c'è un'onda lunga dell'espansione causata da bassi tassi, dagli incentivi fiscali di Trump, dall'America First e così via. L'America, dalla sua, ha una forza relativa elevata e il listino che traina tutti gli altri, quindi quello che soverchia in termini di performance sia l'Europa sia gli emergenti. Per quanto riguarda l'Europa, abbiamo che il mercato azionario è competitivo rispetto ai titoli di Stato, perché il rendimento da dividendo, quindi il rapporto dividendo-prezzo per capirci, è pari al 3,63%. Il rapporto price-earning-prezzo utile è molto basso, siamo intorno a 11, quindi ben al di sotto delle altre aree sviluppate mondiali e anche ben al di sotto di quella che è la media storica. I timori degli operatori sono concentrati su una possibile recessione. Lo stesso dice la BCE che l'economia europea è un po' zoppicante, nel senso che è un'economia che in qualche modo sta rallentando abbastanza vistosamente. Ma questa può essere un'occasione per entrare, perché, come dicevo, grazie al fatto che i rendimenti azionari sono alti, questi rappresentano una valida alternativa all'investimento in bond, perché comunque i tassi restano bassi. I mercati azionari emergenti sono più avari di dividendi, però anche loro hanno un rapporto price-earning basso. L'America è quello che ce l'ha più alto di tutti, ciò nonostante in linea con la media storica, come abbiamo visto poco fa. L'economia dei paesi emergenti, su cui troneggia la Cina in ripresa, grazie alla tregua commerciale tra Stati Uniti e con gli Stati Uniti. Quindi anche gli emergenti sono un'area interessante in cui andare ad investire. Chi investe agli emergenti sovente preferisce i bond, però io credo che la cosa vada valutata con attenzione, perché molte volte le azioni sono un'alternativa ai bond, soprattutto nei paesi emergenti, dove la volatilità delle azioni e quella dei bond è molto simile. I bond comunque vengono da vent'anni di crescita, perché i tassi sono scesi, prima per l'entrata nell'euro, comunque l'economia, la new economy, poi per la crisi del 2008 e così via, e quindi è difficile immaginare che oggi i bond rendano tantissimo. Le obbligazioni in un portafoglio ci stanno, ci devono stare, ma io le vedrei più come una sorta di stabilizzatore di portafoglio, più che non come un driver di rendimento. Renderanno, ma non tantissimo. Quello che renderà di più, verosimilmente, sono le azioni. Però bisognerà vedere come mischiarli in modo opportuno per creare portafogli efficaci. Prima di vedere i portafogli, tre regole generali per investire nel 2019, ma anche in seguito. Anzitutto ragione in termini di anni. Le tre incognite che abbiamo visto all'inizio peseranno nel 2019, ma magari nel 2025 saranno svanite. Quindi guarda oltre il muro di cinta di casa tua. Ricorda sempre che rendimento e rischio sono sposi, sono gemelli siamesi, quindi se tu vuoi incrementare i rendimenti, devi sopportare rischi più elevati. Il punto non è evitare i rischi, il punto è capire quali rischi possiamo sopportare a livello economico e a livello emotivo e assumere solo quelli. Ricorda anche che pure con i sicurissimi bond puoi perdere, quindi non dare per scontato che un portafoglio di bond sia più sicuro di un portafoglio bilanciato con le azioni. Anzi, molte volte un portafoglio bilanciato prudente è più sicuro di bond grazie alla correlazione negativa che c'è tra azioni e obbligazioni. Detto ciò, vediamo tre modelli di portafoglio che puoi facilmente replicare come preferisci con fondi, con etf, come ti consiglio io, a seconda del profilo di rischio. Il primo portafoglio è uno prudente, è composto per il 20% di azioni globali, suddivise poi come meglio preferisci fra le varie aree geografiche e le obbligazioni. Questo è un portafoglio che ha una volatilità modesta, però renderà di più di un portafoglio composto solo da obbligazioni. Il portafoglio conservativo ha un 30% di azioni e un 70% di obbligazioni, anche qua se non sai che pesci pigliare le azioni replicale utilizzando un fondo o un etf azionario globale senza preoccuparti troppo della ripartizione geografica, le obbligazioni anche puoi stare su obbligazioni sicure denominate in euro, singoli titoli a seconda del capitale che hai oppure etf. Il portafoglio dinamico è un 50-50, indicato per persone che sono disposte a tollerare una volatilità maggiore dei propri investimenti, ma che in cambio vogliono rendimenti maggiori. Infine abbiamo il profilo o portafoglio determinato, che è un portafoglio a forte vocazione azionaria, va bene per chi ha un orizzonte temporale lungo, chi può magari incrementare il portafoglio con versamenti periodici, ad esempio chi pensa alla pensione, oppure persone che hanno un capitale magari sicuro investito in un altro modo. Immagina una persona che ha un patrimonio immobiliare da cui ricava un affitto che gli permette di vivere e può correre maggiori rischi con il portafoglio finanziario. A te è naturalmente la scelta del portafoglio che preferisci, ma ricorda che è importante che il portafoglio sia sostenibile non solo a livello economico, cioè un'eventuale perdita non vada a ridurre il tuo tenore di vita, ma che sia anche sostenibile a livello psicologico. Per approfondire i temi del come e dove investire, se hai almeno 100.000 euro di capitale, ti consiglio di visitare il sito segretibancari.com e scriverti i prodotti gratuiti. Grazie.